Hey ragazzi come va? Io sono Aleph Nox e oggi siamo su Minecraft un'altra volta Praticamente fuori camera ho fatto un paio di cose, ho tolto pietra di qua e di là, non so cosa è Ho provato ad andare a fare mining ma non ce l'ho fatta, si è rotto il piccone giusto quando sono arrivato Si è rotto, ho detto cazzo posso farmi un altro? No perché non c'avevo ferro le mani nell'inventario Quindi missione fallita, oh fuck Quindi ho detto fanculo non faccio più un cazzo per quanto riguarda il mining Volevo prendere un po' di quello, però si vede che, di carbone, però si vede che non era il momento per qualche motivo Prendiamo tutto questo, che sinceramente non so per che cazzo ancora è lì Andiamo a prendere le torce, le torce e finiamo il lavoro Cosa ho fatto fuori camera parlando adesso, cioè seriamente, seriamente Spiegandovi in maniera molto grafica, molto dentro il gioco, che cazzo ho fatto Un secondo, non c'è il piccone, porca troia, non c'è un piccone Ah ho ucciso un Enderman, l'ho ucciso là, in quella scala Era comparso da qualche parte, l'ho guardato e mi ha seguito Ho ucciso io con la spada Sono riuscito a proteggermi, mamma mia, incredibile lo scudo Non ho stato lo scudo tra l'altro, non ho avuto bisogno di usarlo Oh fuck, devo farmi qua una salita, eh, una salita figa Quindi, eh, qua non posso fare un cazzo Mettiamoci al lavoro Ah, fuori camera, non ho finito il lavoro Però così anche meglio, perché così lo vedete Erano qua le pecore, quindi le ho spostate qua E poi ho detto, cazzo, ma ancora mi manca un po' di spazio Quindi, uh, le ho spostate là Togliamo questo e finiamo il nostro lavoro Quale il nostro lavoro? Che cazzo ho fatto? Come vedete, ho tolto tutta la massa di pietra e terra che c'era qua Una levetta, la mosca, la riuscita Su, vattene, vattene via E adesso dovremmo Io sono nel terzo o nel quarto? Qua, senti, questo non sono sicuro Questi cazzo di letti, dove è cavolo lì? Allora, c'ho terra, non c'ho terra Mi devo fare, mi devo fare un piccone Per favore, un piccone Qua c'ho il ferro, ok? Facciamoci un bel piccone E allora, terra, terra Mi bisogna anche di un po' di terra Dammi un po' di terra, gioco Ok, adesso posso salire Bene, questi, questi quattro sono fatti Io direi di iniziare Per esempio, togliere Vai, questo lo tolgo dopo No, sì, sì, sì Questo lo possiamo togliere adesso Ah, ho tolto anche la pietra di sotto Che, vien, ancora non lo tolgo Che non c'è bisogno Oh, cazzo E io direi che sono a posto in questo, in questo senso, no? Quindi, allora Questo deve ancora passare là Questo deve passare Porca tro... Mamma mia Ah, perché Oh, devo mangiare Devo mangiare Allora, dobbiamo essere seri Mettiamoci Allora, io direi di completare Questo Che sarebbe Sei puto? Sei puto? Come ti permetti puto? Come cazzo? Allora Prendo con questo popo Che paura Ok, non sei nulla per me Certo Era caduto Mi si era fatto un po' di danno Dormiamo Porfavoro Quindi, se ci mettiamo al lavoro Io finirei in questa maniera Mi chiamano 1, 2 Qua posso fare il 3x3 Così E colleghiamo anche qua E Oh No Devo spostare tutto C'è il baule Certo che i baule Mettiamoli qui Come sarebbe così? Così Ok Vediamo tutto se è possibile Ok Cazzo Sopra Tutta la pietra Ma che cazzo Quello l'avete sentito? Quello è stato Un autobus Intanto Cominciamo a mettere Tutta la terra Tutta la corsa Tutta la pietra Allora Cazzo Abito In un rancio Dove cazzo Abito Ci sono tutti questi rumori Mamma mia Voglio sparare Tutto 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 Il paese Boom Perché È molto comodo Stato Bello Però Ho lasciato Si sta facendo Lassopra Spero che Sono lontano Non so se è finito Non lo so Il cristallo Dove ho smesso A fare un po' Il cristallo Non so se C'è o non c'è Alla fine Non ho capito Un cazzo Ma che cazzo No Ho sminchiato tutto Allora Prendiamo questo Adesso Mettiamo tutti i fiori Ovviamente Mettiamo questi Mettiamo anche questi Anche se adesso Tutto disordinato Ma questo è merda La merda Non si mette Fiori Si Merda No 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 I fiori neanche Non si scopri I fiori qua I colori qua Ok ok Ci siamo Ci siamo Adesso bisogno Ok Mettiamo tutti Quelli che rimangono Mi sembra che Già no Sono pochi E quindi La merda Dove Aspetta Prendiamo questo Pure Questi sono i colori I colori si mettono Accanto Poi metto Uno Per Questo Si Ho bisogno del bianco E' stato Develo in realtà Se lo metto qua Ho bisogno del grigio Ho bisogno del grigio Devo fare grigio Oh oh Aspetta Vai questo lo facciamo dopo Ale Centrati Centrati su una cosa Qua metti la merda La merda quale sarebbe Questa 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 in realtà Cioè no Sono cose che per adesso Non mi interessano Prendiamo tutta questa merda E la mettiamo a posto Questo invece è legno Quindi questo mi interessa Questo mi interessa Tutto il resto no Questo non mi interessa Questo non mi interessa Questo non mi interessa In questa maniera Ma io dovremmo essere a posto Ah una cosa che devo fare Che non l'ho fatto Quando li ho messe qua E' stato mettere il Oh Ah 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 Oh le Non mi interessa Quindi quindi Adesso Allora bisogna fare tantissime cose Però non adesso Non adesso Non è il momento Mettiamo questo Questo baul Così siamo organizzati Siamo molto organizzati Mettiamo questo qua E devo fare con il nero Adesso con il nero E con il bianco Il bianco era Qual era il bianco Non c'ho il bianco Ah certo che c'è il bianco Ce l'ho qua Quindi faccio uno Il grigio Il grigio come si faceva Sono stupido Così Ok Adesso c'ho il grigio Uno grigio Quindi adesso Devo Oh no Devo aprire l'immagine Devo aprire l'immagine Che mi dice Dove cavolo Devo mettere le cose Ah e devo Quindi devi piazzare questo Sono stupido Crafting table La crafting table La piazza qua Un po' di terra adesso Devo dire normale E finiamo questa struttura Uno due Uno due Ok Mi piace Mi piace Togliamo questa pietra E possiamo lavorare E possiamo finalmente Finire il lavoro Cazzo Bene Facciamoci una salita Intanto Facciamoci una bella salita Così E adesso Dobbiamo mettere Qua Se non mi sbaglio Veniva il giallo Può essere Giallo Arancione Rosso Non me lo ricordo Vado a prendere Perché non me lo ricordo E invece no Oh cazzo Sarebbe rosso Giallo Arancione Giallo E verde 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 lima Verde Verde molto Verde chiaro Diciamo Verde Verde Quindi iniziamo a piazzare A fare i colori Ho bisogno di rosso Quindi prendiamo il Tulipan E prendiamo un bel po' Un bel po' Tipo 5 5 basterà Non lo so Intanto lascio una qua Qua va bene Posso lo metterlo così Perché vogliamo usare un altro Adesso devo fare No dobbiamo fare di più Perché devo fare Arancione Cazzo non ce l'avevo pensato Facciamo altri 5 Adesso sono troppi Però non vi preoccupate Non vi preoccupate Adesso facciamo 5 5 gialli E facciamo altri 3 5 non so Gialli Adesso facciamo l'arancione 1 2 3 4 5 Adesso abbiamo 2 cigli Arancione che è troppo E sarebbe Giallo Arancione qua Adesso devo fare verde Però deve essere un verde Sapete un verde molto Molto chiaro Ah certo perché l'altro Ci fa col cactus C'ho cactus Ma non c'è una farmie cactus Meno male che ci siamo il cactus Funziona bene Quindi prendiamo il blu Che intanto dovrebbe essere questo Quello che ci dà il blu Con un po' di giallo Che dovrò fare ancora Dovrò fare ancora un po' di giallo E altri 2 Questi 4 E un po' di blu Adesso facendo una Ma come è che non posso fare il verde così Si fa verde e bianco È possibile che si faccia verde e bianco Oddio Mettiamo questo così Tanto Sennò perdiamo tantissimo spazio Dove cazzo C'è un cactus Ai por favor Ai por favor Ai dios Va bene non vi preoccupate Andiamo a prendere il cactus Insieme andiamo a prendere il cristallo È spettacolare Ok Prendiamo il cristallo Ma che cazzo Ah lo sapevo Questo l'ho fatto fuori camera L'ho messo a fare E l'abbiamo pronto Però non c'è più carbone Questo Quei 4 e quelli 8 di là sotto Non c'ho questi Questi 8 Quelli 8 sono quelli che mi rimangono No più carbone Uh Ma questo non lo userò Devo usare il cactus Io c'ho il cactus Ma dove? Qua C'è un bel po' Quindi facciamo 10 Andiamo a cucinarli Ma vero? Ma really? Facciamo così Mettiamo una qua per esempio Oh i dios Mettiamo questo qua Ok Spettiamo tutto quello che è possibile mettere E che si cucini Si cucini in 8 e 8 Così e così Ok Ok Ma la mia domanda è Il verde Per fare verde chiaro Si fa verde bianco O verde giallo Verde bianco no? Verde bianco per forza Oddio adesso sto facendo troppo Adesso sto facendo veramente troppo Secondo me con tipo 8 mi basta Più che mi basta Mamma mia Mamma mia Andiamo Dovrò a dormire presto Che bello il sole Questa montagna guarda proprio verso La caduta del sole Verso l'alto No la vera è la mattina Quindi il tramonto Il tramonto Proprio bello Mi posso buttare da qui Non mi devo buttare da lì È un suicidio Cazzo questa seria Non lo so È un po' strana Sempre sto tipo indietro così E non mi piace Ah No 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 Posso dormire? Oh grazie Allora C'ho verde A posto Sei contento Il verde si mette qua Però il verde chiaro Si deve mettere qui Quindi non so se con il Questo qua o con il bianco Se con il bianco Devo andare a prendere più Con il bianco porca troia Devo andare a prendere più Più bianco Questi sono No queste non sono bianche Queste sono grigie Grigie E io voglio bianco Bianco Questo è grigio pure Sembra strano Questo è bianco Questo è bianco Mi sta finendo il bianco Toma Mi sta finendo il bianco Bianco porfavor Questa Guarda che cazzo voi Stai morando Allontanati Ragazzi sono livello 24 Ma siete pazzi? Non sono morto da un bel po' Mi piace I like it Non devo parlare molto Perché sicuramente Non è morto Tra poco No Non l'ho fatto a posto Però oddio che bello Non sono morto ancora Poi dovremmo prendere più blu Abbiamo pochissimo Cioè quello che ho visto lì Abbiamo pochissimo Non so se si può fare di più Immaginavissimo Quindi facciamo bianco Tipo il 3-2 Per adesso E metto questi due Faccio Sì 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 Più che a posto Più che a posto Allora centriamoci Dobbiamo lavorare col rosso Per iniziare Lascio una qua E mi metto al lavoro Una è per la pecora Gli altri tre per il cristallo Quindi tre per il cristallo Come si fa? Non posso farlo Ah sì così E sono tre Boom Vamos 24 Il rosso si mette qui Non posso sbagliarmi Il rosso si mette qui 1,2,3,4,5 Ok Ok Hai il like Si sta passando Si sta passando Adesso l'ultimo Gli ultimi otto Ok Adesso devo portare qua La nostra cara amica Amichetta Vamos Ok Una pecora por favor Una pecora Che cazzo Ah riuscite Ancora c'è Basta Vamos Esci No Che cavolo Non me la corda Vieni Segui me Segui me Segui a me Dai che è semplice Dai che ce la puoi fare Vamos Sì Sì Che semplice Questa l'abbiamo finita Come posso prendere quello Potevo fare così Ok Adesso passiamo al giallo Il giallo come si fa Si prende Oh cazzo devo farlo Ah e devo dipingere Oddio Devo fare così Sono pieno di cose Mi piace Mettiamo il cristallo qua Rimango come uno stack e basta Questo blu Questo blu del cazzo Io ancora non sto usando il blu Il blu si metto qua Poi farò il light Light blue E poi l'altro che si Abbiamo preso nel swamp Swamp No 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 Questo non va qua Mettiamo tutto E adesso ci mettiamo al lavoro Devo fare Allora Se io ho qua Quattro Mi basta Devo fare adesso Tre Devo fare tre di questi Del giallo Uno due E tre E adesso Intanto Oh no Devo salire Allora Faccio così Ecco ce l'abbiamo Adesso Oddio Questo sarà un problema Per adesso lo lasciamo così Poi abbiamo bisogno di un piccone di silter Per poter finire questa farm Oh cacchio Quindi adesso Però non mi preoccupo adesso Mettiamo il giallo Il giallo si mette qua No Qua l'arancione Quindi il giallo qua Uno due tre Quattro cinque Sei sette Otto Così Ma è neanche un piccone di silter In realtà non c'è bisogno neanche un piccone di silter Mi basta un Veri più cristallo E c'è un sacco di cristallo Quindi secondo me mi basta Un'altra pecora Vamos Por favor No 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 Uuuuh C'è uscita un'altra Disculpame Prendo l'altra La scelta La prescelta è lei Vamos Non mangiare da lì Vabbè Sti cazzi Vamos Vieni C'è ancora un po' di giallo Io die Lo dipingo dopo Non voglio Ok fermati lì Vieni 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 Ven conmigo Spettacola Vieni devo mangiare Voglio mangiare adesso Dammi Dammi Ok Adesso tolgo Tipo Che cazzo è rimasto Da questo lato Arancione Facciamo l'arancione adesso Devo mettere il giallo qua Ci sono un sacco di giallo Per un po' di motivo Anche l'arancione È una quantità assurdissima Uno due tre E quattro Dobbiamo fare adesso Arancione Uno due E tre No Così Facciamo tre E questo per dipingere La pecora Pecora Adesso nessuno vuole uscire Disastro Ok 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 Sono uscite due Una che è uscita È sparita Non so da cazzo è andata Oh non ho costruito ancora La struttura Va bene Tu intanto vieni Tu intanto vieni Adesso la costruisco E non un momentin E non senti a me E non un momento molto breve Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 No Stupida Non può essere più stupida Vieni Por favore Te la sto chiedendo Per favore Che cazzo vuole Suve Suve Ok Salita salita Vieni Se vuoi veniamo da qui Così Hai meno problemi Vieni 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 E adesso Verso qua No Oddio Salì por favore Vieni 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 Bustati Non puoi contro di me Sono troppo bravo Allora Allora Per cui intanto questi Posso toglierli Ok Adesso la ripingo Che spettaculare Non c'è un po' di Ok Vieni qua E li prendo Perfetto Dove è andata la pecora Perché sempre spariscono Oh meno male Mi manca quella verde chiaro Facciamo quella verde chiaro Abbiamo 6 Ho bisogno di 4 Io Uno per qual Prendiamo un po' di cristallo E adesso facciamo Quello che dobbiamo fare Che sarebbe il cristallo Di questo tipo No 1 2 3 E facciamo tutto Ok Andiamo a costruire La zona Oh che bello Questa cosa è troppo bella Vederlo da sopra Sicuramente sarà spettacolare Vederlo da sopra sarà Hermosso Hermosissimo Ok E adesso Lì E lì Ok Io direi Io direi Prendiamo la pecora Eh sì sì Questa è brava Questa è la precelta Questa sale da sola Mi piace Mi piace Vieni con me Vieni vieni Non puoi cadere Questa è una linea dritta È lungo dritto Tutta la strada Mamma mia Vieni Vieni la precelta Raga questa Questa la dipingo subito Questa la dipingo subito Se cadete L'ammazzo No No Sono caduto io Non sono io il precelto Fuck Ai Dio Sono io lo stupido In questo momento Dovanti buttare Ecco ecco tu sali Tu sali Tu brava 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 Oddio Vieni Oh madre Ok 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 Non posso prenderlo Devo per forza rompere Un blocco Ok E il secondo Il secondo Pam Le altre 4 Le abbiamo finite Quindi 1 2 Questo è uguale Ormai distruggere Questino perché ancora si deve Non devono passare Questo lo posso rompere E questo pure No si è rotta la pala Che geniale Questa cosa è geniale Mi piace Mi piace un sacco Andiamo a vederla Andiamo a dormire Vediamola da sopra Vediamo come si vede Come si Se ve Vediamo se è spettacolare Andiamo a controllare Da qua da qua Da qua dobbiamo salire Mi devo fare una pala Mi devo fare una cazzo di pala Se lo dobbiamo aggiustarlo Perché è tutto quarsi Tutto questo Anche mettere qualche alberetto Accanto Sarà bellissimo Questo posto Mamma mia sarà bellissimo Almeno io nella testa Ce l'ho bellissimo Non lo so poi com'è Cazzo uscirà Però sarà finissimo Secondo me Vediamo 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 Che figata Non lo sai Mi piace un sacco Io sono molto Illusionato con questa cosa Sono molto Un'illusione Che ho dentro di me Non lo so Non lo so se voi mi capite E il bello di giocare a minecraft Che abbiamo Mamma mia non lo so È troppo bello Vediamo quanto Quanto cazzo di Mangiare abbiamo Perché mi sta finendo E mi sa che non produce abbastanza Dime quanto ha producito Qua l'abbiamo lasciato a 44 E abbiamo uno stack e tre Cioè abbiamo fatto tipo Mettiamo 44 Abbiamo prodotto questo Ok Ok dobbiamo fare un'altra Almeno un'altra Almeno Almeno un'altra Ed è poco Io voglio una cosa che Sia molto molto Che produca tanto In quantità industriali Non voglio preoccuparmi mai Più del cibo E poi non voglio preoccuparmi Voglio avere quelle Quelle dorate Le carote dorate Sono bellissime E molto utili Molto utili sopra tutto Va bene Io spero che questo video Vi sia piaciuto un sacco E così lasciate un bel mi piace Condividete con i vostri amici E ci vediamo Quando ci vediamo Ok Un altro giorno Adios Ciao 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 Grazie a tutti.